Martedì 5 marzo, domani sarà il 6 marzo e da domani è il momento, ovvero si può richiedere il reddito di cittadinanza per chi ne ha diritto. Oggi su Me Tomorrow nella doppia centrale vi raccontiamo tutti i dettagli dove fare la domanda, come funziona poi la cosiddetta card per le spese, i requisiti che ci vogliono per chiedere il reddito di cittadinanza e poi le offerte di lavoro, quando arriveranno, come fare e le incentivi per le imprese. Abbiamo ascoltato i milanesi ma abbiamo messo a confronto anche due posizioni politiche, quelle dei 5 Stelle che hanno fortemente voluto la misura e quelle dell'opposizione come Forza Italia che invece parla di misura assistenzialista e peraltro anche molto confusa. A proposito sempre di lavoro, non perdetevi il consueto appuntamento del martedì con la selezione delle offerte di impiego sul territorio di Milano e provincia e poi una bella storia in Milano racconta, quella di Marina Viraghi, titolare della scrittura di Via Turati, racconta aneddoti della storia della sua bottega a Milano.